Bentornati su MyFootballGersey. Quella che vi mostro oggi è un'altra maglia retro, secondo me, favolosa. Questa è la seconda maglia del Manchester United per la stagione 2006-2007, ovviamente di Ronaldo. Grazie a tutti. La maglia è bellissima. Mi piacciono tantissimo i colori, poi di un campionissimo, quindi secondo me è una maglia che dovevo avere. Il costo lo vedete qui sopra, molto basso, decidete voi cosa fare. Vi ricordo che trovate qui sotto, in descrizione, tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Andate a vedere perché per i nuovi iscritti c'è anche un link per ottenere un coupon da 3 dollari, quindi il costo diventa ancora più basso. Ora vi lascio alla parte finale. Prima però ricordatevi di iscrivervi al canale. A voi non costa nulla, ma ci permette di farvi vedere sempre nuove recensioni. Per oggi è tutto, alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione Fan.